Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi voglio farvi un video in cui provo a fare un bullet journal premetto che non l'ho mai fatti, questo sarebbe il primo infatti non vado ad utilizzare un quadernetto a fogli puntinati ma utilizzo questo che avevo comprato alla Lidl notebook la copertina è in cartoncino craft all'interno è così e poi cominciano i fogli a righe allora io ho già disegnato matita e ora andiamo insieme a ripassare il tutto il nostro canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.